A volte leggi certe notizie e ti congeli completamente, no? Rimani un po' e dici, ma... Dici, ma come è possibile? Ma prima di cominciare, come sempre ragazzi, mi raccomando, iscrizione al canale Schiacciate quel pulsante perché stiamo crescendo veramente bene Gabri la mattina sta facendo la rubrica Buongiorno Milan che è molto molto interessante Vi svegliate, mettete in mente per mettere il caffè Vi guardate la rubrichetta perché tanto comunque fa discorsi sempre molto interessanti E sono sempre molto fluidi e secondo me insieme al caffè ci sta benissimo Quindi iscrizione al canale e tanti commenti, mi raccomando Di cosa parliamo stamattina? Ovviamente quello che è inerente al titolo Perché stamattina la firma Zazzaroni sul Corriere dello Sport Ha fatto uscire un bel titolone di Dybala fra Premier e Milan Anche già così fa ridere comunque perché il potere economico e contrattuale che ha la Premier Noi ce lo sogniamo, siamo un mare e mezzo in distanza Non abbiamo quelle potenzialità, ma questo è poco ma sicuro Però è vero anche che un Dybala al Milan, ragazzi servirebbe come il pane Un Dybala al Milan sarebbe tanta roba Ma perché? Perché Dybala è un giocatore, chiamiamolo anche lui poliedrico Dybala è un seconda punta, trequartista e anche esterno destro Attenzione, anche esterno destro perché può essere un esterno destro atipico Che si accentra e sa farlo, perché sa farlo Quindi uno dice, ma come lo prendi Dybala? Come lo prendi Dybala? Come lo prendi? Lo prendi che ad esempio tu adesso stai avendo 7 milioni netti a Ibra È vero, col decreto crescita sono qualcosina di più Sono 8, 10, non mi ricordo adesso Però non è sicuramente quello di un giocatore che gioca già in Italia Dybala vuole 10 milioni, 10 cucuzze nette È quello che ha chiesto la Juve 10 cucuzze nette, la Juve ne offriva 8 più bonus Lui voleva 10 cucuzze nette per 4 anni Perché Dybala vuole un contratto lungo E soprattutto vuole una squadra che dia la garanzia di essere al centro del progetto È per questo che ha rotto con la Juve Alla fine la Juve ha detto basta, non c'è via d'incontro Perché tutte queste caratteristiche non può concedere a Dybala E uno dice giustamente, è perché dovremmo prenderlo noi Come facciamo noi a prendere 10 milioni l'anno? Il problema è proprio questo Perché Dybala comunque prendendo 10 milioni l'anno Potrebbe arrivare a abbassarsi fino a 8 più bonus Potrebbe anche accettarlo Voi dite, sì ma è la stessa offerta della Juve Sì ma il Milan sarebbe al centro del progetto Potrebbe essere una follia la Elliot Tutto può succedere Ricordiamoci che Dybala, ripeto, è un giocatore Che può fare il trequartista, la seconda punta E anche l'esterno destra tipico che si accentra Quindi è un giocatore che torna molto utile Potrebbe anche evitarti di farti comprare il Berardi la situazione Che Sassuolo vuole 30 milioni Più tre di stipendio Alla fine comunque Anche Berardi gioca genitali, attenzione Sono quasi il doppio 6, 12, 18, 24 Sono 50 milioni di operazione Non è esattamente quella di Dybala Ma due ragionamenti si potrebbero anche fare in teoria Cos'è che non va bene Dybala? Il fatto che lui comunque vuole la garanzia di essere al centro del progetto Ha un carattere difficile Sempre una prima donna Punta sempre i piedi perché è un bambino viziato È spesso sempre infortunato Queste sono le uniche pecche di Dybala Ma ribadisco il concetto Uno al Dybala servirebbe come il pane Oh ragazzi costo del cartellino zero Questo vale 45 milioni 40 milioni Costo del cartellino zero Ti impegni un pochino più economicamente sullo stipendio Se Ibra magari non rinnova più Meno 7 Ma anche se rinnovasse comunque voleva 3 milioni Quindi comunque non dico che c'è la fattibilità Ma la possibilità di un pensierino potrebbe anche starci Poi c'è la simpatia e l'antipatia per Dybala Il fatto che è un gobbo e che non è un gobbo Tutte queste cose Però guardiamo oltre Guardiamo l'utilità del giocatore Guardiamo quello che serve al Milan Perché è quello che ci interessa Non mi interessa che è gobbo o non gobbo Juventino o non Juventino È vero Eppi uno dice Abbiamo sempre avuto ciofeche dalla Juve Ci hanno sempre fregato Dybala non lo vede una fregatura Rispetto ai precedenti Bonucci e Higuain È un giocatore diverso A me è sempre piaciuto come giocava Dybala Non posso negarlo E poi è tanta roba ragazzi Però queste valutazioni secondo me Sono da fare in maniera molto approfondita Certo è che sarebbe un top player Rimarrebbe comunque un sogno Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate Ne avevamo già fatto un po' di tempo fa questo video A proposito di Dybala Però sapete oggi esce il titolone di Zazzarroni E ho detto Ciao fammene parlare un po' con i ragazzi Fammi sentire cosa ne pensano anche loro Se investirebbero veramente questo sforzo economico Per pagargli lo stipendio O preferirebbero virare su altro Con altre caratteristiche Come sempre vi aspetto I vostri commenti Sempre Forza Mina E ci sentiamo più tardi Ciao ragazzi a dopo Ciao Grazie a tutti.